Laika, che c'è Laika? Bellissimo, bellissimo Sono troppo felice, vabbè poi cancello la targa della sua macchina L'ha chiamata Anna? No, si, l'ha chiamata, grazie Ma ci mancherebbe, io adesso spengo, volevo soltanto farvi vedere a chi ha conosciuto Laika su Facebook questo incontro meraviglioso Il tuo papà ha incontrato, bambina quanto sei bella Bellissima, che Dio vi benedica